E finiamo questo primo blocco della puntata 36 di Motor News con Peugeot e con il modo in cui si sta preparando la Casa del Leone per affrontare il Rally di Monza. Giuseppe Testa e Daniele Mangiarotti festeggeranno davanti alle migliaia di appassionati attesi anche quest'anno al Monza Rally Show. Dal 2 al 4 dicembre il loro fresco titolo di campione italiano in Rally Junior 2016 conquistato con la 208 R2 schierata da Peugeot Italia Rally Junior Team. Per il Leone, quello del 22enne molisano Giuseppe Testa è il secondo successo consecutivo nel tricolore junior dopo quello vinto da Michele Tassone lo scorso anno. Giuseppe e Michele sono il frutto della costituzione del Rally Junior Team per valorizzare il giovane più promettente del realismo italiano, consentendogli di disputare il campionato italiano della specialità con lo status di pilota ufficiale. Il progetto Rally Junior Team si inserisce nella politica di Peugeot Italia di offrire ai giovani la possibilità di debutare e proseguire nell'attività agonistica mettendo a disposizione i mezzi che consentano loro di lottare per la vittoria. Altro esempio di questo impegno a favore del divaio azzurro è Peugeot Competition. Il trofeo promozionale nato quasi 40 anni fa è riservato ai clienti sportivi del marchio che offre come premio finale al vincitore la partecipazione come ufficiale al Monza Rally Show. Quest'anno sarà il torinese Gianluca Tavelli, il compagno di squadra di Paolo Andreucci alla Carmes Monzez. Ora ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, tra poco ritorniamo con il Motor News con altre novità del mondo dei motori in un blocco complessivo dedicato all'EICMA di Milano. A tra poco.